ciao ragazzi eccoci qui e voglio presentare lo snap di slim puro un portafogli portacarte e anche portaspiccioli adesso vabbè io ho lanciato tutto qui questo qui è tutto quello che continua la confezione il portaspiccioli qui posso mettere gli spiccioletti lo shield per non per far sì che anche se qualche malintenzionato ci voglia prendere qualcosa dalla carta tramite nfc si trova male questa warranty card dovrebbe essere ovviamente le istruzioni e la confezione se adesso io vengo da diversi portafogli anche creati da me stampante 3d i più generici come questo che fanno comunque la loro figura i più blasonati come quest'altro vi faccio vedere velocemente e vi devo dire mi sto trovando veramente bene con questo perché vi faccio vedere subito sul blasonato di cui vi ho parlato prima mi ero inventato questo per poter portare gli spiccioli sempre con me e quindi messo al posto della carta di credito ogni volta che mi serve uno spiccioletto aprivo chiudevo e mi trovavo bene senza dubbio però aver studiato questo che prima di tutto non hai soldini lanciati la così hai il posto per metterci le banconote e l'è chiuso e tutto il resto per le carte di questo ci sono due versioni la 8 e la 12 carte io ho qui la 8 anche se a mio parere la 12 è più comoda in quanto montando il porta spiccioli che vi faccio vedere subito come funziona ma potete vedere non si muovono perché c'è genere un pannolencio ovviamente non non entro non chissà quanti spiccioli però una persona che un portafoglio del genere non credo che dia tanto peso a questo però entrano quanti ne entravano in quello inventato da me per dirvi una volta che abbiamo messo il porta spiccioli possiamo iniziare a mettere le carte già con una carta non si muove nulla e continuare inserire carte 1234 forse ne entra anche un'altra dipende ovviamente anche dal ecco a 45 dipende anche dal da quanto sono spesse le carte ovviamente una carta di credito una carta banco ma ti avendo microchip è leggermente proprio più spessa però già che ci entrano 45 schede non è male se prendete la versione da 12 col porta spiccioli entrano 8 credo che state abbastanza parati qualità costruttiva molto buona l'effetto carbonio 3d molto bello anche al tatto non è incollato come pensavo quando ho visto le foto prima di acquistarlo bensì dietro tutto possiamo vedere è praticamente cucito sul metallo le finiture non so se si vedono bene non si raschia difficile da raschiare il materiale è buono le finiture sono buone quasi impercettibili le alette che ci consentono di non far sviare fuori le carte però fanno il loro porco dovere vi ripeto anche solo una carta non non esce a meno che non lo vogliate voi l'idea credo che sia questa quella di prendere le carte da sopra anche se io mi trovo meglio senza aprire ogni volta la parte portafoglio semplicemente farle ci volare da dietro cosa un pochino un pochino più scomoda l'ammetto con il porta moneta inserito però nulla di impensabile niente questo è il portafoglio della slimpuro spero facciano anche dei portachiavi perché è veramente fatto bene io che vengo poi da una marca blasonata come vi ho detto che vi ho fatto vedere prima passare un altro lo credevo abbastanza difficile invece vi faccio vedere anche il confronto parliamo alla fine di quasi lo stesso spessore perché se pensavo che qua mettiamo le banconote si gonfiano lo sappiamo o l'altra soluzione è questa dove stiamo sempre sulla stessa barca niente di che ragazzi arrivederci questo era lo sling puro snap